Salve a tutti e benvenuti e bentornati agli extra di Kirby 64, The Crystal Shards Oggi, andando alle elezioni, andrò a cercare minigiochi, che sono un prossimo extra che ho intenzione di fare Molto divertente perché questo è uno dei video che sono andati persi quando ho perso i dati del mio computer Del mio portatile precedente Era un video di circa 40 minuti, era divertente Ora non so cosa uscirà, quindi I'm sorry Comunque minigiochi, sono tre minigiochi Sono molto divertenti in multiplayer, mi ricordo che ci giocavamo parecchio ai tempi E ci siamo divertiti soprattutto con quest'ultimo, credo Andrò in ordine Ogni, naturalmente solo un umano Sceglierò un personaggio Partiamo con Kirby No, partiamo in questo, partiamo con... Sì, partiamo con Kirby, con questo E poi devo scegliere una difficoltà, cioè facile, normale, difficile e intenso Giocherò a ogni difficoltà, quindi potrò usare tutti e quattro i personaggi A difficoltà diverse E continuerò finché non vinco Quindi se perdo semplicemente rifaccio finché non vinco Chiaramente taglio i tentativi falliti Comunque questo è il salto, il saltello, 100 yard di saltelli È quello meno divertente secondo me, però vabbè Ed è semplicemente A per saltare uno spazio e B per saltarne due Sembra facile, perché saltare sempre due, ma... Perché non saltarne sempre due, ma dipende Dovete anche guardare... Facco, vedete? Guardare cosa c'è davanti a voi Ora vincerò facilmente, perché questi sono computer di livello facile Ma più avanti diventa parecchio impegnativo Ah, la rana La rana dovevo aspettare che si spostasse prima di saltare E non sono più allenato, quindi a difficoltà più alte sarà un disastro questo Oh man Voilà, ho vinto facilmente 30 secondi, sì, è più o meno quanto ci si mette Ora devo aspettare che finiscono gli altri sveglioni qua Vedi cosa c'è a livello intenso, sarà un disastro L'altra volta ho fatto circa 30 tentativi per vincere Ne farò probabilmente meno stavolta, perché ci metterò di meno a... Andare a rifare a ritmo con i computer, ma comunque... No! Ok, bravo Ci ha messo il doppio di me quasi, quindi... Voilà Bam! Un punto per me Ora devo fare play another game per cambiare difficoltà Andiamo con... King DDD Normal E cambia anche la configurazione dello scenario E gli ostacoli che dovete superare, quindi... Fuck Questo lo vincerò ancora facilmente, credo Ah, shit Il prossimo... Probabilmente no Vai, rana! Ok Na na... Oh! Na 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 na... Oh, shit! Oh, man! Non risponde bene il controllo, come mai? Fuck! Oh, man! Sarà un disastro! Sarà un disastro! Di proporzioni epiche! Non riuscivo anche a vincere Era difficile se gioco così Ho giocato da schifo, man Ok Metti la testa in campana Stiamo in campana Ok, ora Andiamo con Adelaine Difficile Ok, sono le buche Fuck my life, ok Shit Oh shit Ok 33 Non male ma vedete che mi sono le calcagne Parte Kirby Kirby come on Ma non è quel problema del livello intenso Non è l'abilità del computer È la mia disabilità E parte del scenario vedrete E Waddle, Waddle my friend Tempo di fare intenso Quelle cacchio di tartaruga man Sono una maledizione del Demonio Come on vai Salta tutto Fucking no Oh shit Vai però Ci sei quasi Waddle Di no no Oh shit No I fucked it I fucked Oh 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 no Niente Ah Ah È la tartaruga man Rovina le vite Non ero andato così male Verso il mezzo però Ah Quarta man Ok Play again E ricomincia l'avventura Oh 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 shit Oh Meno di un secondo Fucking Waddle verde Oh E non è neanche sbagliato una volta Mmm Ok 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 Stai in campana Stai in campana Se vuoi vincere Andare lontana Devi Guardare Stare in campana O qualcosa De no Oh Fucking Gig Ok Gig 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 Ah Oh mi sono fermato No Tartaruga Aspettare Fuck Dannazione Vado lì verde Ok Non li faccio ancora 30 tentativi Fuck Ho sbagliato l'ordine Shit Eeeh No Sì Questo è il motivo Per cui mi C'è 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 No 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 Shit Play again Shit Mi sono fermato Non pensare Non pensare Non pensare Shit Non mi prendo i controlli Fuck My life Soltanto da uno Per andare sul sicuro Mi rovino la vita Così Porco cane Buonanotte 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 Oh no Era così perfetto Per caso Shit 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 Fuck 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 God damn it No No Oh no Oh no Non lasciarmi Oh yes Ok Molti meno tentativi Dell'altra volta Uff Sarà meno divertente Perché mi amo a failare Ma non importa Non ci sono più contento io Ok Sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Tentativi Un po' meno Un po' meno Dell'altra volta Ok Passiamo ad un altro gioco Ora Questo Bumper crop bump Non so come tradurlo Lo schianto del frutteto Ok L'altra volta ho cominciato con Kirby Stavolta cominciamo con Didi Facile Allora I comandi sono Bump and move Ok Quindi dovete raccogliere la frutta che cade dagli alberi E niente Riempire il poto cecino con più frutta possibile E la manovra migliore per ottenerla è il furto girato così Lo chiamo il flipping twist Twist E si ruba Twist E si ruba Twist Twist Spingendo al momento giusto si può rubare il frutto E credo che sia il momento migliore perché i computer ci cascano quasi sempre E al massimo nessuno lo prende che è meglio ancora La pesca Sembra ancora ma sono pesche Sono fissati con le pesche con sta forma Flip E flip e flop E mio Oh Andrò io col pomodoro Che non è un pomodoro Oh shit Flip flip Oh flippiti Oh pera E flop Ok La frutta Contiene vitamine Che ti aiutano a vivere Più o meno Ma però puoi anche vivere senza frutta Ok Pesca Oh pomodoro Oh 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 Apple Apple Routine Forse sono arance Non ho aumentato la sotturazione perché sono così rosse Apple Sanguigne Ma sono sanguigne dentro di solito Pesca E ora arriva al finale In cui cade tutto quanto Penso che li sto battendo di un po' Appena un poco Eeeh Flip 35 Ho vinto di un po' Woo Bravo King E ora Andiamo a difficoltà normale con Adelaine E cambia un po' sempre lo scenario Non mi ricordo Mi sembra che non cambia granché Fra facile e normale però Oh no A vero ci sono i frutti bomba Frutti bomba Se li prendete nel giostino Se siete vicini All'esplosione Perdete Eeeh Mi sembra che perdete Tutta la frutta Mi sembra tutta Non ho mai O forse solo tipo 10 Ma 10 è comunque un sacco Quindi Quindi lontani da lì O spingeteci gli avversari Non saprei A me sembra sembrato Di vederla perdere Tutta quanta In quelle situazioni Flip Flip Oh E non importa che personaggio avete Cioè i personaggi non hanno Tipo statistiche o roba simile Quindi Davvero non importa Mia 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 Eeeh Mia Oh Flip Eeeh Flap Eeeh Come on Eeeh Eeeh Occhio Kirby Mia 19 20 Oh no Ho il cuore Chi sono già? Oh si è vero Mi sono messo a guardare Kirby Per un attimo Eeeh Oh no Il twist è mio Puoi rubarmi il twist? Tick Vuoi continuare a litigare fra voi? Io faccio piazza pulita qui Nooo L'ultima pena Vabbè 25 Non male Woo Buona lì Eeeh Ora Andiamo con Waddle Per Il livello difficile C'è il waddle verde Non ho detto waddle verde Oh, ho già una bomba all'inizio Non che importi, ma state lontani Io prendo tutto intanto Oh, come osi Oh, mi spingono in fondo alla fila Pesca Oh Oh Yeah Mi sembra che nel video originale Ho pareggiato con qualcuno In questo Ecco, nel Nel facile Mi sta spingendo verso l'esplosione Cioè, nel difficile Verso l'esplosione Oh Ah Flip Oh yeah Steal Fruit stealing Oh, mi spingono in fondo alla fila Sono malefici Pera mia Pesca mia Ah Questa Oh Pomodoro E pera Yeah E c'è il cuo Oh Oh You green fucker Oh Flip Oh yeah Flip Oh flap Oh Flip Oh flip Yeah Spingetemi Flip flip Flop Flop Oh Oh Almeno l'ha perso Oh 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 Flip Yeah Guarda lì Star attento che non recuperano durante la caduta qua Oh shit Mio 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 Oh Penso di essere salvo Yeah 18 E vai Bam Ok Ora è intenso L'altra volta Nel video precedente Operati con Kirby Nel video precedente Intenso l'ho trovato più facile Del normale Ora andiamo su un arcobaleno E cadono Gemme Invece di frutta Magino zucchero Roba simile No Non lasciate Waddle da solo Flip Oh Oh una bomba No thank you Oh shit Oh Oh mio Occhio Oh Oh sto perdendo malamente qua Mia No Non lasciate Adeline Come on Perché lasciate vincere E questa strategia Dei Degli intensi Oh no Lascia Ah 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 Oh shit Lascia prendere tutto a uno Flip No Fucker Ti hai sacrificato l'infame Ma è buonanotte Non so che non riesco a più Si è che ho avuto fortuna L'altra volta Eh Oh Oh Fuck you Gemme esplosive Andateci voi Oh Chi l'ha preso Ancora Waddle Ah La vedo male Fuck Ok Quattro Cinque Sei Sette Nove Mmm Ok Ok Era vicino alla cosa Se quel cacchio Se Waddle non si fosse sacrificato per maledirmi Ok 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 Oh Give me some of that Oh Perché Adelaide è così in vantaggio Da subito Oh Via Oh Via Oh yes Adelaide era quella in vantaggio Quindi E ne ha perse Flip 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 Oh Flip Flip Oh 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 Flip Flip Oh 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 Thank you Oh Oh Flip Oh Dammi questa Oh no Oh la bomba No Non spinetemi contro la bomba Fuck Undici Oh yes Io e Waddle Io e Waddle Oh no Quattordici Qua Oh Vabbè Pareggio va bene così Sono arrivato primo Va bene così Yes Ok Metal non conta perché Fuck you Ok Bene E ora abbiamo Checkerboard Chase Ehm Era in corsa sulla scacchiera Suppongo Ehm Iniziamo con Waddle Direi in questo Questo lo troviamo Il più divertente Perché era tipo una sfida Ehm Praticamente Dovete far cadere Linee di blocchi Usando questo attacco con A Ehm E i blocchi Che colpiti dal vostro attacco Chiaramente cadono Dopo un po' risalgono Però Ah E bisogna far cadere gli avversari Cinque volte Credo Ehm E appunto Quando giocavo con i miei amici Mi sembra che era il più competitivo E divertente Questo Yeah Perché potevi tipo Fare Alleanze temporanee O roba simile Beh si possono fare In qualunque gioco In multiplayer Ma Poi si restringe Quando muore Un avversario Yes Vabbè E poi si restringe di nuovo Quando Ne rimane uno Ne rimangono due E voilà Ho vinto Non è troppo difficile Questa difficoltà Yeah Ah Play another game E ora Andiamo con Kirby Normal Qua c'è Non c'è nessuna differenza Fra le varie difficoltà A parte Beh L'abilitarlo il computer E quando ci si guarda E si lanciano le cose L'importante È essere i primi A lanciare l'onda Perché Se sei il primo Che lancia l'onda E se ve la lanciate Uno contro l'altro Sei sicuro Di essere in grado Di scappare Altrimenti no Sei il primo Oh Due in uno Oh shit Almeno ti ha portato Con me Maledetto Waddle D Waddle è andato Occhio Oh Preso Oh Sono suicidati Oh Ah fuck Si è rigenerato in tempo 4p in vantaggio Oh shit Ok Ok Oh Siamo solo Normale Come on Lethal Don't let me down Ok Siamo pari Siamo pari No Oh È caduto prima lui È caduto prima lui Yeah Victory Victory Ah 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 E ora King Didi Hard Mi ricordo che commentavo I match di questo Quando non giocavo Perché eravamo in più di 4 No Allora dovevamo fare i turni È tipo Adelaide Non sapevo che si chiamasse così Perché non conoscevo l'inglese Allora la chiamavo Van Gogh Che era una pittrice E poi c'era Kirby che era Cicca masticata Mi pare La roba sì Figlio Ciccicc Ok Ddd Calmo It's a trap Sfugge Sfugge Come una lampreda Da shit Incrocialo Incrocialo Oh yes Oh no Oh no 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 Risorgi blocco Ok Fuck you Oh no Attacco Ah Fatto prima io No No Sono in trap It's a trap Oh Shit Solo una Abbiamo tutti solo una vita Oh I did it Yeah Ha caduta col bordo L'altra Adelaine Woo Nice E ora Andiamo con Adelaine E finiamo con Intense No siamo Su roba tecnologica Spara Preso Just in time Oh Ti porto con me Se è necessario Oh Oh no sono Oh Ok Oh Fuck you King Dd Oh No Preso lui Ho tolì la tecnica prioritaria Sei su una linea unica Oh Fuck Oh È già morto qualcuno Fuck Oh Quanti siamo Oh A due Prima io Oh No Ok Waddle ne approfitto Oh shit Motherfuckers Smettetela No Kirby vince Waddle Sei tradito Ok ok La rifacciamo La rifacciamo Bam Oh Pensavi eh Oh Oh I'm free Motherfuckers Oh no Oh shit Dove sono Spara agli infedeli Vai Waddle Oh 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 Waddle Oh Oh Due in uno Oh Occhio Oh Allora Si sono suicidati Vai su Kirby Dai pesante su Kirby Che è in super vantaggio Oh No Fucking Kirby Oh 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 Sei in trappola oramai Quante vittime destra Oh shit Lui ne ha così tante Oh Ok Siamo pari Siamo pari Yeah Trappolato Occhio Yeah Mi sacrifico volentieri E ora Farti prendere dal suo ritmo Yeah Baiting Voilà Bam E questa è la fine dei minigiochi Sono divertenti Da solo Ma chiaramente Sono fatti per il multiplayer Quit Beh Beh io vi ringrazio D'attenzione Alla prossima Dove Affronterò La sfida Ai boss Grazie E alla prossima Bye Bye